È complicato dire per quale motivo l'avvenimento delle bombe di Savona. È evidente che è stato un tentativo eversivo. La marca di questo avvenimento è una marca assolutamente eversiva. Perché su Savona? Questa è la domanda a cui è difficile rispondere. Se non pensando ad una realtà sociale fortemente caratterizzata da una forte classe lavoratrice e un governo della città da decenni di sinistra e si è voluto forse da parte delle versioni provare a vedere una destabilizzazione, la creazione della paura, della preoccupazione, cosa avrebbe significato in una città così fortemente caratterizzata politicamente. Se quello è stato il tentativo è stato un falimento. Perché la reazione di Savona e di Savonese a classe operaia ha fatto fallire questo tentativo di creare paura, di creare preoccupazione, di far rinchiudere la gente in casa. Le persone sono uscite, hanno presidato la città, hanno fatto in modo via via di scacciare questo tentativo eversivo. Gli obiettivi delle bombe erano precisi. La scuola, un soggetto pubblico, una civile abitazione, una piazza. Cioè, il tentativo è stato quello di far capire che si voleva creare paura e preoccupazione proprio là dove le persone vivevano. La reazione è stata immediata. Ed è stata immediata con le manifestazioni, ovviamente, contro questi fenomeni, contro il terrorismo, contro le bombe. Ma si è evoluta anche attraverso i presidi. Cioè, persone, lavoratori, cittadini che alla sera si riunivano, costruivano dei gruppi che giravano, presidiavano la città, in modo tale da far capire alla città stessa che doveva stare tranquilla, doveva stare sicura, perché c'era chi guardava che cosa stava succedendo. E questa cosa, devo dire, è stata fatta anche in assoluto intesa e rapporto con le forze di polizia che hanno sempre trovato fortissima collaborazione in queste squadre che con grande senso di responsabilità presidiavano, al punto che via via le bombe ci siamo accorti che sono uscite da Savona. Cioè, le ultime bombe sono scoppiate distante da Savona. Questo tentativo eversivo si è allontanato dalla città perché la città li ha respinti. Il momento più recattante dell'iniziativa contro questo avvenimento è stata la grande manifestazione a Savona. che è stata una manifestazione non solo Savonese, ma Ligure. Nel senso che hanno partecipato a questa manifestazione in solidarietà ai cittadini savonesi delegazioni delle fabbriche di tutta la Liguria e non solo, con il grande comizio che è stato tenuto in piazza. Una di queste bombe, tra l'altro, è esplosa nella scuola Guido Bono. era stata collocata vicino a un pilone di sostegno della scuola stessa, proprio vicinissima alla Camera del Lavoro che era in via Giustina. Allora la sede della Camera del Lavoro era quella e aveva determinato anche una situazione di preoccupazione vastissima perché si colpiva una scuola. la cosa era veramente dirompente in quel momento, nel senso che il disagio e la preoccupazione e la paura veramente in quel momento sono subentrati perché si andava a cercare di colpire proprio la parte più debole della città. Savona, che aveva un po' superato negli anni precedenti periodi di crisi, pur con chiusure di diversi stabilimenti, c'era stato poi negli anni 60 e prima del 70 un assestamento dell'assetto produttivo. La metà degli anni 70 evidenzia di nuovo l'apertura di una fase di crisi. La distribuzione internazionale del lavoro, le politiche di spostamento di investimenti da una realtà all'altra, cioè creano situazioni di crisi che si evidenziano con il fallimento della Mammoth, con la crisi della Magrini Galileo, la precedente Scarpe Magnano, e con la stessa crisi dell'Ital Sidere. e anche del porto di Savona, nel senso che la crisi determina anche una forte contrazione dei traffici. Savona, contrariamente alla realtà, ad esempio, genovese, non aveva una forte presenza di partecipazioni statali. Aveva una presenza dello Stato nell'attività chimica in Val Bormida e praticamente a Savona l'unica realtà, diciamo così, partecipata dallo Stato era lo stabilimento di Talsidere. La crisi delle aziende private è stata pesante, però parlavamo di aziende private, parlavamo di aziende dove c'era presente capitale americano, capitale estero, per cui erano logiche che in qualche modo si davano per scontato anche se non si accettavano e le lotte sono state durissime. La crisi delle partecipazioni statali mette in discussione un punto che sembrava acquisito e non discutibile, nel senso che lo Stato, le partecipazioni statali erano presenti a Savona, c'erano e ci sarebbero state. Invece purtroppo non è stato così. Il tempo veniva scandito con le sirene degli stabilimenti di entrate e di uscita e c'era una, diciamo, storicamente Savona, Vado, e sono realtà di sinistra, perché la cultura della classe operaia, diciamo che proviene anche, voglio dire, da venimenti precedenti, un forte legame col Partito Comunista, col Movimento dei Lavoratori, crea una coscienza molto forte sotto questo aspetto, di autodifesa, di credere in alcuni obiettivi, essere pronta a mobilitarsi, a spendersi su questi obiettivi, che fosse questo il lavoro, che fosse questo il salario, ma che fossero anche queste le questioni di carattere internazionale. Cioè, in quegli anni, specialmente con l'inizio della guerra sul Vietnam, c'è stata una fortissima mobilitazione dei lavoratori che cercavano a loro modo di opporsi a questa guerra. Diciamo che quando c'era qualche avvenimento, i consigli di fabbrica, bastava che questa cosa venisse a conoscenza, uscivano dalle fabbriche, dalla Scarpa Magnano, dall'Ital Sidere, dal Porto, dalla Metal Metro, e c'era la manifestazione in piazza, affinché si cessasse la guerra, affinché ci fosse, voglio dire, la pace, insomma, con questi slogan che hanno caratterizzato quegli anni. Il quadro era molto difficile, perché avevamo già cominciato a subire le chiusure delle fabbriche e, diciamo, non si era ancora avviata la fase di una certa trasformazione ed evoluzione anche dal punto di vista tecnologico. Cioè, chiudevano le aziende, le aziende erano in crisi, si cercava di fare il possibile attraverso cassa integrazione, attraverso qualche strumento che lo Stato aveva messo in atto, tipo ad esempio questo soggetto che si chiamava Gepi, che entrava nell'azienda in crisi e cercava di tenerli in piedi, così come è successo alla Metal Metro, la stessa legge Prodi. Per cui ci siamo stati dentro una fase molto travagliata e che ha, tra l'altro, messo anche in discussione uno di quei punti che sembrava fossero inattaccabili, che erano le partecipazioni statali e che alla fine erano proprio l'Ital Sidere, perché a Savona l'unica azienda a partecipazione statale era l'Ital Sidere. E si è avviata questa fase di progressiva messa in liquidazione e disimpegno delle partecipazioni statali che è iniziato un disimpegno sulla siderurgia in generale, perché lo Stato ha deciso che la siderurgia non fosse più un punto strategico nell'economia del Paese e ha cominciato a privatizzare e a vendere Cornigliano, l'Ilva di Taranto, Piombino e a liquidare perché era difficile collocare sul mercato aziende marginali che servivano alle partecipazioni statali nell'attività produttiva quando era tutta in essere ma che alla fine non erano strategiche, tra cui lo stabilimento di Savona, prima chiudendo la fonderia di seconda fusione e successivamente anche chiudendo tutte le attività meccaniche che venivano svolte nello stabilimento. e lì si avvia una fase dove le prospettive di questo stabilimento si è capito che non c'erano e si avvia la fase di ricerca di nuovi imprenditori, di nuovi soggetti per vedere se era possibile arrivare ad una soluzione che poi c'è stata ma c'è stata con la perdita dell'attività produttiva di quel sito. Lì ridecide attraverso le partecipazioni statali aziende partecipate dello Stato di svolgere un ruolo fondamentale nella siderurgia parliamo della ricostruzione del paese dopo la guerra parliamo dell'acciaio di un elemento fondamentale per la ricostruzione per rimettere assieme case, palazzi, ponti, strade insomma e lo Stato entra e considerando strategica la siderurgia realizza il piano Senigallia della siderurgia il giudizio sulle partecipazioni statali non c'è dubbio che sono stato uno strumento fondamentale nella fase di governo della ricostruzione e della regia pubblica della ricostruzione ma è anche vero che le partecipazioni statali bisogna dirlo sono anche state il momento nel quale la politica si è spartita a quel potere a dirigere le partecipazioni statali non sempre c'è stato il meglio della classe politica italiana così come non sempre ci sono stati dirigenti responsabili capaci e qualificati per governare processi produttivi di questa natura per cui molte volte quanto è avvenuto e si è riscontrato come elemento negativo nelle partecipazioni statali rispetto al quadro diciamo così di valenza economica è perché la politica bisogna riconoscerlo ha messo a dirigere assetti produttivi delle persone che non avevano la qualità e le capacità non è questo che ha determinato la morte delle partecipazioni statali ma diciamo ha determinato quella condizione dove si è dimostrato che stavano diventando un peso e non più un'opportunità dal punto di vista dei lavoratori è la cosa più complicata nel senso che il lavoratore lavora si rende conto quante volte dentro lo stabilimento di Talsidere il consiglio di fabbrica denunciava che non si lavorava ma non che non si lavorava perché i lavoratori non lavorassero non si lavorava perché non arrivava al lavoro ed era incomprensibile il motivo per cui non arrivava al lavoro essendoci personale specializzato gente capace di fare le cose eppure il lavoro era scarso ma eravamo già in quella fase voglio dire di tentativo oramai di liquidazione d'altra parte i lavoratori avevano nelle partecipazioni statali un punto di certezza più di altri lavoratori auspicavano speravano e pensavano che non sarebbero mai stati abbandonati perché era lo Stato presente nelle loro aziende contrariamente a tante altre aziende che da un giorno all'altro chiudevano i battenti fallivano loro sapevano da questo punto di vista gli sembrava di avere più sicurezza relativa perché poi alla fine la sicurezza neanche per loro c'è stato però c'è sempre stata la consapevolezza che quando non si lavorava c'era qualcosa che non andava e questa cosa veniva spesso denunciata che non andava